ciao amici alessandro saluta secondo giorno di campeggio la vediamo un po' stavolta abbiamo provato visto che ieri si era un po' mollato tutto così per rinforzare un pochettino vediamo un po' come abbiamo fatto sull'homipod sulle descom alessandro che stiamo a mettere i calzini allora vediamo fai vedere che addominali madonna siamo andati così questi li abbiamo trovati cerotti acqua blocchi non lo so se è meglio e tatuaggi e tatuaggi e tatuaggi madonna ragazzi guardate che roba guardate che roba e poi abbiamo dovuto abbassare la basale del 40 per cento perché ci andava in ipo l'aereo di mare gli fa bene i tuffi le corse poi o chissà forse il primo giorno non lo so però praticamente ha voglia di dare le bustine e cosa allora ti ho detto perché gli devo dare zucchero in più allora gli abbasso la basale abbassato il 40 per cento sta dritto è il freddo è il freddo tu dici eh sì ben goccetto sì è 85 ma vedo ha bevuto aranciata cosa non si muove basale 40 per cento in meno vabbè forse questo si saura un po' di insulina eh qui un po' di insulina sì vabbè ma te la faccio eh questa va bene va bene va bene perfetto Alessandro si può anche buttare se vuoi eh al cestino un bel noccio ciao mi dici ciao